È stata interrogata per quasi due ore e avrebbe dichiarato di non ricordare nulla la studentessa statunitense che ha denunciato di essere stata violentata in un locale di Firenze nella notte tra il 6 e il 7 aprile. La 21enne è stata ascoltata in un incidente probatorio disposto d'urgenza dal GIP su richiesta del PM Beatrice Giunti dal momento che la ragazza resterà in Italia solo fino al 17 aprile per poi fare rientro negli Stati Uniti. La giovane americana ha ricordato il contenuto della denuncia per violenza sessuale ma di non essere più in grado di riportare alla memoria quanto avvenuto nel corso della nottata. A suo dire il blackout sarebbe la conseguenza del trauma provocato dalla violenza subita come le sarebbe stato spiegato dalla psicologa che l'ha seguita in ospedale nell'ambito della procedura del codice rosa subito scattato. Durante l'incidente probatorio le sarebbero stati mostrati alcuni video girati dalle telecamere della discoteca nel quartiere di Santa Croce che la riprendono mentre balla sulla pista con alcuni amici e poi mentre esce dal locale ma anche in questo caso avrebbe dichiarato di non riuscire a ricollegare le immagini. Davanti al giudice anche un compagno di università che avrebbe raccontato di essere entrato quella notte con lei e altri amici ma di averla poi persa di vista.